L'esperienza della maratona è stata fantastica, favolosa, ancora di più quando la si vive per un aspetto solidale come correre per Federico. C'è un altro fanese però che ha accolto questa tua iniziativa. Sì, insieme siamo partiti per la maratona, con Roberto Polverari ci conosciamo dallo scorso anno quando abbiamo condiviso un'altra maratona, quella di Firenze. Indossavate una maglietta particolare? Sì, diciamo che abbiamo corso con una maglietta col doppio scopo, il primo un po' per scherzo, con gli Ardico, seppur per la restituzione dell'Isipo, quindi abbiamo chiesto in un modo veramente scherzoso, quasi con gli Ardico ad Obama, la restituzione di questa bellissima statua che è l'Isipo che purtroppo ancora è in un museo americano a Los Angeles. L'altro lato invece è quello molto più solidale, quello che veramente abbiamo nel cuore è quello per Federico e abbiamo coniato questo Logan Run for Federico. Abbiamo avuto il piacere di consegnare due magliette, la prima per Vito con la quale ho corso la maratona, quindi ha gioito per 42 chilometri e 195 metri questa fantastica maratona di New York dove hanno partecipato più di 50.000 persone. Ed è stato favoloso dopo tre chilometri incontrare appunto il mio compagno di avventura, Roberto, che si pensava impossibile in mezzo a così tante persone incontrarsi perché con partenze diverse e con modalità anche diverse da partenza. E quindi ci siamo incontrati e con questa bellissima maglia abbiamo trionfato proprio con lo striccione dell'Avis che abbiamo steso durante gli ultimi 200 metri della corsa, abbiamo tagliato il traguardo con lo striccione dell'Avis. Con questa maglietta con la quale ho corso ho deciso di regalarla a Vito, mentre un'altra maglietta appositamente creata l'abbiamo regalata a Tiziana. L'iniziativa Run for Federico proseguirà? Sicuramente sì, è vero che la maratona è terminata e abbiamo raccolto quindi questi quasi 4.000 euro, ma è un incentivo a far sì che tutte le persone continuino in questa solidarietà verso Federico e appunto Run for Federico è finita durante la maratona ma continuerà per tante altre iniziative.